Continua la battaglia dei sindaci di Auronzo, Comelico Superiore, Danta, San Nicolò Comelico, Santo Stefano e San Pietro contro l'imposizione di ulteriori vincoli paesaggistici proposti tramite la soprintendenza. L'amministrazione comunale di Auronzo ha approvato in Consiglio Comunale una delibera votata all'unanimità che prevede appunto il parere non favorevole sul vincolo. La scorsa settimana poi c'è stato un incontro tra i sindaci del Comelico, la sottoscritta al quale erano stati invitati i parlamentari bellunesi, hanno partecipato l'onorevole De Meneche e il senatore Saviane e in questo incontro i sindaci hanno chiesto espressamente all'onorevole De Meneche di poter avere un incontro personale con il ministro Franceschini, presente anche naturalmente la Regione e i parlamentari bellunesi, per capire se c'è la possibilità non di cancellare il vincolo ma di chiedere una sospensione. Quindi la volontà dei sindaci è di chiedere una sospensione per aprire un piano di confronto e realizzare un piano paesaggistico condiviso tra Comuni, Regione e Ministero che tenga conto delle esigenze del territorio, perché vorrei ricordare che questo vincolo ci è stato imposto dall'alto e è un vincolo che davvero va a pregiudicare tutto lo sviluppo futuro del territorio e anche va ad aumentare quel fenomeno che è lo spopolamento. Vorrei ricordare che i comuni che sono vincolati ad esempio come Cortina o Sappada hanno un vincolo generico, invece i comuni del Comelico e di Auronza avrebbero ben 97 prescrizioni. I tempi inoltre si fanno sempre più stringenti. La data per la firma del decreto è il 6 dicembre, da quel momento il vincolo diventa effettivo, quindi noi sindaci ci appelliamo a tutti i parlamentari bellunesi affianché agiscano, ma soprattutto io vorrei appellarmi al ministro bellunese Federico Dincà che credo sia l'unico che possa davvero parlare col collega ministro Franceschini e fargli presente l'assurdità di questa situazione e chiedere quindi una sospensiva anche per la delicata situazione meteorologica e per la fragilità del nostro territorio.